Atp, procedura complessa, a dirlo il sindaco metropolitano oggi durante l'approvazione del bilancio. Trasporti, sanità e sociale sono alcuni dei punti del documento finanziario presentato dal presidente della regione Toti. 105 occhi elettronici, telecamere in città per garantire sicurezza alla popolazione di illustrare gli interventi di videosorveglianza al sindaco di Sestri Levante, Ghio. Si inventa un sequestro, è accaduto a Sestri Levante e è stato denunciato dai carabinieri. Alle 8 del mattino, polemiche azzuagli per l'orario del prossimo consiglio comunale di martedì. Calcio agli sgoccioli nel fine settimana, si giocano le ultime partite del 2015. Buonasera ai telespettatori del TGT Guglio, dunque la politica amministrativa in primo piano ed incominciamo con la città metropolitana. Oggi c'è stata la riunione dei sindaci per approvare il documento finanziario e si è parlato anche di ATP. Una situazione delicata e complessa, dice il sindaco Doria. Sentiamo. Sono stati 44 i voti a favore di altrettanti sindaci del territorio presenti, alcuni anche con interventi critici, alla conferenza metropolitana sul bilancio 2016-2018. Per ATP è ancora in corso una procedura complessa, gestita con i comuni azionisti per completare la trasformazione in azioni ATP dei crediti AMT. La sto presidiando e dovrebbe esaurirsi entro quest'anno, dice il sindaco metropolitano Marco Doria. Il bilancio, con 97 milioni complessivi in parte corrente, potrebbe variare nei prossimi mesi perché si sta decidendo la ripartizione dei tagli già stabiliti fra le città metropolitane, aggiunge Doria. E i criteri, se si considerano i costi standard, quindi il grado di efficienza nell'erogare i servizi, ci sarebbero più favorevoli che se prevalessero invece criteri diversi che anacquassero l'efficienza. Noi comunque faremo la nostra battaglia. Ed invece per questa sera è convocato il Consiglio Comunale di Lavagna. All'ordine del giorno ci sono 27 punti, tra questi molte emozioni rispetto al progetto del muro di contenimento lungo Lentella, con quella della maggioranza che parla di contrarietà al progetto e quella di Alessandro Lavarello, 5 Stelle, Mario Maggi e Andrea Giorgi, 100% Lavagna, che chiedono la revoca della delibera del Consiglio del 2013 con la quale il Comune aderiva al progetto concedendo le aree. La Giunta porta precedentemente in discussione un regolamento per il servizio pubblico dei taxi, uno per la disciplina e la gestione di sagre manifestazioni, che la delibera precisa essere stato concordato con le associazioni di categoria. E poi verranno affidati in gestione per 5 anni parcheggi a pagamento senza custodia. Si comincia con un atto di indirizzo. All'ordine del giorno figura anche l'amorbidimento dei criteri richiesti per la vendita degli appartamenti realizzati in via Bacchini con il piano di prima casa. Se prima si richiedeva che tutti gli acquirenti soci fossero residenti a Lavagna o vi lavorassero dopo il passaggio in Consiglio, sarà sufficiente che a questi requisiti risponda il 50%. E adesso sentiamo invece quali sono le priorità di intervento per la Regione Liguria nell'ambito del bilancio finanziario tra sociale, trasporti ed economia. Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha presentato il bilancio finanziario, crescita, occupazione e rilancio economico. Questo vogliamo per la Liguria ed è in questa direzione che va la manovra finanziaria del 2016, ha detto. Tre punti principali, le agevolazioni fiscali alle imprese, prevista un'esenzione integrale a beneficio di chi avvierà nuove attività nel territorio, nelle categorie di turismo, attività manifatturiere, ricerca, alta tecnologia. Introdotta altresì una manovra di regolarizzazione agevolata della tassa auto. In materia di edilizia residenziale pubblica provvederemo ad istituire il Fondo regionale per le politiche abitative al fine di convogliare tutte le risorse disponibili, risorse del bilancio regionale 300.000 euro, contributi statali e dell'Unione Europea, specifica Toti. E ancora, in materia di cultura e spettacolo, sono previsti nuovi criteri per la concessione dei contributi basati sulla capacità di fare rete. La presentazione della legge di stabilità per l'anno 2016 prevede tagli di spesa a carico del comparto regionale per 4,2 miliardi di euro. I mancati trasferimenti di risorse verranno coperti per 2 miliardi di euro dalla riduzione del Fondo Sanitario Nazionale. Per la Liguria, i tagli presunti di spesa ammonterebbero a 64,5 milioni di euro, gravando in primis sull'edilizia sanitaria, sull'istruzione e secondariamente sulle materie del sociale. Capitolo Trasporti. Il bilancio 2016 riesce a garantire il finanziamento del rinnovo del contratto di servizio con Trenitalia per oltre 80 milioni di euro. Sanità, a intenzione dell'amministrazione, intensificare i controlli sulle asle. Grazie al ruolo della vicepresidenza della conferenza delle regioni, aggiunge Toti, è stato possibile concretizzare collaborazioni con altre regioni, in particolare con la Lombardia, con la quale sono già stati sottoscritti alcuni accordi. In campo sociale sono stati stanziati i fondi necessari al funzionamento dei distretti sociosanitari, il Fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità per 15 milioni di euro e altre misure in campo sociale per quasi 3 milioni di euro a beneficio dei cittadini appartenenti alle fasce deboli. Nel settore dello sviluppo economico viene finanziata con una dotazione di 2 milioni di euro per la prima volta dopo diversi anni la legge per sostenere gli investimenti produttivi delle imprese, al fine di favorire lo sviluppo tecnologico, competitività e crescita dell'occupazione. In tema di dissesto idrogeologico abbiamo attivato il mutuo autorizzando per 3,5 milioni di euro da gestire nel 2016 per l'avvio delle opere di difesa del territorio. Per il ripristino dei danni alluvionali sono in arrivo 275 milioni per la gestione commissariale, chiude il governatore. Anche i rappresentanti dei pendolari e dei consumatori siano all'interno del comitato di concertazione delle attività di trasporto pubblico. A chiederlo ha il vice capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, Luca Garibaldi. Come PD abbiamo presentato un emendamento in consiglio durante la discussione sulla proroga al contratto di servizio sul trasporto su gomma, chiarisce l'esponente del PD, per chiedere alla Giunta che a questo tavolo di concertazione sedessero anche i rappresentanti degli utenti che tutti i giorni utilizzano mezzi pubblici e che hanno il polso della situazione. Ma la proposta è stata inspiegabilmente bocciata. Per migliorare il trasporto locale, il contributo delle associazioni dei consumatori e dei pendolari è fondamentale, visto che sono loro che effettivamente utilizzano il servizio, chiude Garibaldi. E ora parliamo di sicurezza in città con l'installazione di oltre 100 telecamere nella località di Sestri Levante. Vediamo. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno deferito in stato di libertà per simulazione di reato e procurato all'arma un 34enne che aveva simulato una storia di sequestro di persona, poi risultata inventata. Ieri mattina invece i militari hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato in esercizio commerciale una moldava di 34 anni poiché si era appropriata di alcuni generi alimentari al supermercato Copp di Viale Dante a Sestri, reflutiva recuperata e restituita. Infine, una donna abitante a Sori in via Crispi richiedeva l'intervento dei carabinieri. Sul posto, i militari della stazione di Pievelegore constatavano che i gnoti, dopo aver tagliato le inferiate di una finestra e penetrati all'interno, avevano rubato vari oggetti e monete in oro. Danno da quantificare, le indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Pieve. E questo, come avete sentito, era il servizio che si riferiva sempre a Sestri Levante, ma per gli interventi di cronaca e i controlli e le attività portate avanti dalla compagnia Carabinieri. Ma, come vi dicevo, rimaniamo nella località dei Due Mari per parlare proprio ancora di videosorveglianza e di sicurezza attraverso le attività invece svolte dall'amministrazione comunale. Sentiamo. La sicurezza è una priorità per l'amministrazione che registra costanti avanzamenti e miglioramenti nella convinzione che sia necessario mettere in campo strumenti concreti per assicurare a tutti i cittadini il diritto di vivere in sicurezza. Sono le parole del sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, che ricorda che attualmente sono stati installati oltre 15 chilometri di fibra, riuscendo a coprire i siti cittadini strategicamente più importanti. Zona Portobello, Piazza Matteotti, Centro Storico, Piazza Sant'Antonio e Piazza della Repubblica, Viale Mazzini, Pietra Calante, Viale Dante, Zona Autostrada, Quartiere Lavagnina, Baratteri, San Bartolomeo, Via del Soccorso, Varsoriva Trigoso. Nel 2016 la rete di fibra ottica verrà ulteriormente stesa fino a completare anche le aree di riva rimaste momentaneamente escluse, la frazione di Trigoso, la zona finale di Via Val di Canepa, la zona di Antica Romana Occidentale. Attualmente è stato possibile installare 105 telecamere, 14 telecamere con riconoscimento automatico della targa nelle zone di Sant'Anna, Casella Autostradale, Lapide, Campo Sportivo Sivori A, Via Pontino, Via Primi, Via Sara, Salita Bracco. A breve verranno installate in Via Pontino e a Borgorena. E altresì in corso l'installazione di altre telecamere con risoluzione analoga in altre zone del centro, del Centro Storico e del Porto. Sono già operativi gli occhi elettronici in Piazza Matteotti, Via Garibaldi, Piazzetta Bellotti, Salita Mandrella, Largo Colombo, Piazza della Repubblica e presso la banchina portuale. A breve verranno installate ulteriori telecamere in Via 25 Aprile, Via Le Dante e Via Le Mazzini. Il primo cittadino informa poi che è stato approvato nel corso dell'ultima seduta di giunta il protocollo d'intesa con Anaci, grazie al quale i singoli amministratori di condominio potranno proporre l'acquisto di telecamere per la videosorveglianza da utilizzare per il controllo di spazi e da repubbliche antistanti gli edifici da loro amministrati. Prosegue anche il monitoraggio idrogeologico con la telecamera a supporto del Servizio di Protezione Civile per il controllo del livello dell'acqua del torrente Petronio, oltre ad una seconda appena installata che permette l'immediata visualizzazione della situazione dell'alveo. E c'è stato un incidente questa mattina in Via Le Millo a Chiavari. Una donna di 77 anni è stata investita da una macchina mentre attraversava la strada. Sul posto l'automedica del servizio 118 ma fortunatamente la donna non ha riportato ferite gravi e è stata comunque condotta in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. E adesso parliamo del Consiglio Comunale di Zoagli. Si tratta di una seduta molto importante ma scoppia la polemica perché è stata convocata alle 8 di mattina. Invito tutti a partecipare al prossimo Consiglio Comunale che si terrà martedì prossimo alle 8 di mattina. Lo dice il consigliere di minoranza Cesare Macciò, uniti per Zoagli, facendo alcune precisazioni e ironizzo sull'orario scelto, soprattutto visto che si parlerà di argomenti importanti. Questa ora è stata scelta per incentivare sicuramente il pubblico, visto che si parlerà anche di cose molto importanti, tra cui la spesa folle di soldi dei cittadini, cioè 720.000 euro per rifare il sagrato, si parlerà di costi del servizio della spazzatura e delle eventuali multe che i cittadini di Zoagli saranno costretti a pagare per il non raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata, afferma. Visto l'orario ho chiesto a mie spese di poter videoregistrare la seduta, ma ad oggi non ho avuto il permesso, conclude Macciò. Riprendiamo da Lavagna e parliamo della cerimonia di questa mattina che si è svolta al porticato Brignardello per il torneo di pesto al mortaio. Sentiamo. Oggi ho vinto la gara del pesto al mortaio, finalmente dopo tre anni, sono riuscito all'ultimo anno a aver l'onore di essere arrivato al primo posto. Come ti sei preparato? A casa mi sono sempre allenato con il mortaio che ho vinto due anni fa, sempre in questo concorso che ci hanno lasciato il mortaio, sento che non sono mai riuscito ad arrivare nei primi posti. Poi ho fatto anche la gara dei pesto mondiali a Genova, ma anche lì è andata male e oggi sono veramente contento di essere arrivato prima. Assessore, appena terminata la cerimonia di premiazione, è una giornata importante questa per la scuola alberghiera di Lavagna, per il CIV e per il Comune. Torneo di pesto al mortaio, si mantengono le tradizioni? Senz'altro. Allora, questo è il secondo anno che partecipo a questo evento. È un evento sempre particolare, anche emozionante. Vedere questi ragazzi che, con così tanto amore, impegno, si dedicano a questa gara e ci tengono parecchio. Quest'anno, così come l'anno scorso, abbiamo voluto mantenere la tradizione. Nella compagine della giuria abbiamo soggetti che non fanno più parte della scuola alberghiera, però abbiamo appositamente voluto mantenere questa tradizione. Ricordiamo che questo evento ha avuto origine, diciamo, ricordando in memoria di un ragazzo che fresquentava la scuola alberghiera e che purtroppo è deceduto tragicamente e improvvisamente in un incidente stradale. Dicevo, la scuola alberghiera sta sempre più, diciamo, migliorando. La qualità, i servizi, si sta facendo anche a realtà nuove. Tra queste l'Accademia di Turismo. Abbiamo fatto la serata inaugurale a Villa Spino, la Lavagna, dove era la sede dell'Accademia, che in sinergia con altri enti, appunto, parteciperà a questa nuova, importante e ambizioso progetto. Anche quest'anno il CIV di Lavagna ha creduto fortemente a questa manifestazione per ricordare Denis Alusai, d'intesa quindi con l'alberghiera e il comune si è svolto questo torneo. Far conoscere a tutti le nostre peculiarità, dare un'importante opportunità ai ragazzi della scuola. È proprio così. Questo torneo, nato tre anni fa, appunto, in seguito a questo tragico episodio, sta portando, come avevamo sperato, tanto di buono per la città e per i suoi ragazzi. Noi di questo siamo orgogliosi, siamo anche orgogliosi dei prodotti che abbiamo utilizzato per preparare, far preparare oggi il pesto ai ragazzi dell'alberghiera qui al Porticato Brignardello. I ingredienti erano di prima scelta, i ragazzi sono stati, come ripeto, molto bravi e hanno conquistato la vittoria con i numeri da, abbiamo annunciato oggi, i numeri da torneo di pesto mondiale. Infatti oggi era presente qui a Lavagna Maurizio Valle, uno dei consiglieri del mondiale di pesto al mortaio e stiamo lavorando affinché le selezioni per il torneo mondiale avvengano al più presto qui a Lavagna e magari in questa splendida cornice. Cerimonia di confuoco invece domani a Santa Margherita Ligure, l'appuntamento alle 9.30 in piazza San Siro, la cerimonia partirà alle 10.45 in piazza Caprera, un'usanza che affonda le radici nel tardo medioevo riproposta negli ultimi anni dalle amministrazioni, dal Lions Club Santa Margherita Portofino in collaborazione con la Proloco Capitaneato Rapallo. Prima dell'accensione del tradizionale all'oro saranno consegnati i diplomi di benemerenza ai membri delle confraternite, confraternita del suffragio e buona morte, confraternita Santa Erasmo, nostra signora della Dolorata, arci confraternita San Bernardo e Santa Lucia, confraternita del suffragio e morte. Quest'anno l'abate sarà Cinzia Ceria, cittadina san margheritese, decoratrice, membro del direttivo Ascom. E sarà anche l'occasione per premiare gli studenti della scuola che hanno vinto il concorso Poster per la Pace promosso dal Lions Club. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà all'auditorium della scuola media Rossi. Adesso invece parliamo di musica con un appuntamento che è stato curato dalla scuola Pucciarelli di Lavagna. Sentiamo. Appuntamento domenica alle 20.45 a Lavagna in Sala Albino con un evento promosso dall'Associazione Franco Pucciarelli. Si tratta di cosa? Un saggio natalizio? Sì esatto, è un saggio di natalizio di Natale che organizza l'Associazione Franco Pucciarelli domenica 20 alle 20.45 in Sala Albino, sopra la biblioteca di Lavagna. E' un momento in cui i vari giovani musicisti dell'Associazione avranno modo di far sentire i loro progressi e quindi di mostrare i piccoli ma preziosi traguardi che hanno raggiunto grazie al loro impegno, all'impegno dei loro genitori e dei loro insegnanti. E sarà inoltre anche un momento per farci gli auguri per le imminenti festività natalizie. E' uno dei vari eventi organizzati dall'Associazione Franco Pucciarelli che oltre ad eventi e concerti musicali organizza anche corsi di strumento. Quest'anno sono attivati le cattedre di pianoforte, violino, chitarra, sassofono, tromba, musica d'insieme e abbiamo anche un piccolo coro di voci bianche, il piccolo coro della Pucciarelli che raggruppa bambini dai 4 ai 12 anni e da diretto da Cecilia Cereda e che proprio in questo periodo compie un anno di vita, di attività e quindi sarà anche un'occasione per festeggiare l'attività di questo piccolo coro. Oltre all'appuntamento di domenica, chi volesse avvicinarsi a voi, come può contattarvi? Allora, noi, l'Associazione Franco Pucciarelli attiva sia a Lavagna che a Rapallo, ma la nostra sede è a Lavagna, in piazza Corte Viola 18. Per qualsiasi informazione e recapiti telefonici si può fare riferimento alla pagina Facebook dell'Associazione, quindi Associazione Franco Pucciarelli. Ancora un passaggio sull'importanza di questa associazione è una testimonianza che viene resa nota da una socia ed anche da una mamma che ha i bambini che appunto frequentano questi corsi. Beh, sì, è un'esperienza bellissima e dobbiamo anche ringraziare i maestri Faldi e Anna Maria Amari che grazie a loro appunto portano avanti la tradizione di questa scuola di musica fantastica. In più sono appunto mamma di due splendidi bimbi che appunto stanno imparando nozioni di canto, base e anche chitarra, ecco, perché la musica come sappiamo è molto importante anche per l'anima. Quindi un momento anche di condivisione e di aggregazione per i più piccoli. Beh, certo, certo. I bimbi si sentono comunque parte già di un coro e questo comunque aiuta sicuramente lo spirito di squadra e la sana competizione. Anche Rapallo rinnova il tradizionale rito del confuoco cerimonia in cui ogni anno in concomitanza con le festività natalizie l'amministrazione porta i suoi auguri alle autorità civili, militari e religiose e alla cittadinanza in generale che nel caso del comune è rappresentata dall'associazione Carugio Dritto con il governatore Vittorio Mizzi. La cerimonia si svolge domani presso l'auditorium delle Clarisse. Alle 9.30 un corteo composto dai figuranti del gruppo storico Rapallo partirà da Piazza delle Nazioni alla volta del teatro dove alle 10 inizierà la manifestazione. Nel corso della mattinata verrà anche la consegna dell'olivo e dell'alloro da parte del sestiere Cerisola che ha effettuato la sparata del pane girico nelle precedenti feste patronali al sestiere Cappelletta che lo effettuerà il prossimo 2 luglio 2016. Verrà inoltre consegnato il premio Ama la tua città da parte del Lions Club Rapallo e destinato alle migliori opere di valorizzazione architettonica del territorio eseguite nel 2015. Al termine della mattinata in Piazzale Scrivà avverrà la cerimonia dell'accensione dell'alloro beneaugurante. E parliamo invece adesso delle novità che riguardano il Cif di Chiavari e il Castello Incantato. Sentiamo quali sono le iniziative principali. Novità al Castello Incantato di San Pier di Canne. Iniziamo dalla principale che riguarda l'apertura. Sì, da quest'anno c'è questa novità. Il Castello Incantato su prenotazione rimarrà aperto l'ultimo venerdì di ogni mese dalle ore 20 alle 24 per i bambini del nostro nido e anche per bambini di altri nidi. Ovviamente per chi ha fratellini o sorelle nella fascia di età fra i 3 e i 6 anni sono ben accetti. C'è un'altra novità che riguarda una collaborazione tra il Castello Incantato e un'attività commerciale. Sì, abbiamo collaborato con Super Bebé e chi è un cliente affezionato o volesse fare la lista nascita nel Super Bebé di Chiavari-Rapalle-Sestri-Levante avrà l'opportunità di uno sconto al Castello del 10%. Inoltre prosegue la collaborazione tra il Castello Incantato e il CIF di Chiavari e avete promosso una sottoscrizione a premi. Di cosa si tratta? Sì, una sottoscrizione a premi per autofinanziare il CIF che è appunto un'associazione di volontariato. I premi sono 109 e l'estrazione avverrà il 5 di gennaio in Piazza Matteotti dalle 15.30 alle 17.30 in occasione della festa Cara Befana c'è posta per te. L'estrazione verrà fatta dai bambini e poi a loro verranno consegnati i dolcetti e avranno la possibilità di consegnare alla Befana i loro messaggini attraverso un palloncino che verrà lanciato in cielo tutti insieme. E adesso siamo arrivati allo sport e parliamo di calcio. Domani tornano le partite per la Serie B la Virtus Entella ospiterà il Vicenza mentre domenica spicca in Serie D la Vagnese Rapallo Bogliasco. Sentiamo. Le partite di domani sabato 19 dicembre per la terza categoria alle 14.30 Ricalcio Atletico San Salvatore e Valle Valdaveto alle 16.15 Carlo Grasso a Renelle alle 16.30 Panchina Carasco alle 18.15 Leivese Radio Portofino mentre domenica 20 dicembre alle 14.30 Rupinaro Sport Entella per il campionato di seconda categoria alle 14.30 Accia Setta Segesta Atletico Casarza Cogna Borgo Rapallo Moniglia Cogonese Realdeva Riese Levanto alle 15.00 Framura Montaretto Borgoro Tondo alle 16.15 Sestieri San Lorenzo per il campionato di prima categoria Girone B alle 14.30 Rapido Nozzarego Realfieschi alle 15.00 Ponte Carrega Ruentes Cogoleto Caperanese e per il campionato di Serie B alle 15.00 Virtus Entella Vicenza le partite di domenica 20 dicembre per il campionato di prima categoria Girone C alle 10.30 Bogliasco Calvarese San Gottardo Levi per il campionato di prima categoria Girone D alle 14.30 Follo San Martino Aurora e Moneglia Don Bosco per il campionato di promozione alle 14.30 Golfo Paradiso Little Club Gimora Serra Ricocca Sanzarigore e Moconesi Molassana per il campionato di eccellenza alle 14.30 Rapallo Rea Valdivara arriva Samba Voltrese San Magheritese Ventimiglia infine per il campionato di Serie D alle 14.30 Lavagnese Rapallo Bogliasco e oltre Povoghera Sestri Levante E parliamo ancora della partita di domani della Virtus Entella ecco il commento in vista dell'appuntamento per questa competizione di mister Aglietti Doviamo fare una grande prestazione perché comunque troviamo una squadra che è vero che non sta attraversando un buon periodo però i valori del Vicenza sono assoluti sia a livello tecnico che organico come allenatore insomma una squadra che ha tutto per riprendersi e far bene noi torniamo a giocare in casa torniamo a giocare in casa dopo una sconfitta dopo tre mesi in cui siamo stati imbattuti e sono anche curioso molto curioso di vedere quello che riusciremo a fare insomma la squadra si sta preparando bene però l'impegno è difficile quindi ci vorrà la migliore entella il Vicenza è una squadra costruita per giocare anche la mentalità del suo allenatore quella una squadra offensiva è chiaro che non credo che presteranno presteranno il fianco a concederci spazi e giocare in maniera diciamo così allegra cercheranno comunque di metterci difficoltà attraverso quelle che sono le loro conoscenze però credo anche che lo faranno in maniera molto culata molto attenta cercando di avere grande equilibrio perché sanno anche che se si scoprono noi possiamo punire in contropiede in maniera mortifera quindi sarà una partita anche a scacchi domani noi abbiamo la possibilità sicuramente di variare negli uomini quella che può essere interpretazione della partita domani al di là poi dopo di quello che sono le caratteristiche della partita voglio una squadra che metta cuore che metta intensità che metta cattiveria in campo perché poi al di là poi dopo delle caratteristiche bisogna avere queste questa voglia di vincere la partita sto facendo delle valutazioni la squadra comunque ho detto si è allenata bene tutti si sono allenati bene mi stanno mettendo difficoltà ancora ho molti dubbi e quindi non so neanche se avremo un centrocampo più tecnico un centrocampo più fisico chi giocherà a destra chi giocherà a sinistra insomma la notte porterà consiglio bene con questo servizio termina il nostro TGT Guglio ma come sapete ormai il venerdì sera dopo il nostro telegiornale su Entella TV l'appuntamento è con Gian Domenico Solari e il suo cetogiornale allora io mi vorrei proprio collegare con lui buonasera Gian Domenico mi senti bella lei bella lei come sta? attenti va bene che sono nell'altro studio veramente meno male che sei lontano guarda perché ero un po' preoccupata allora sei pronto tra pochissimo so che ti piace molto quando io dico telefono aperto sì in effetti devo dire la verità che mi piace quando dici telefono aperto sai perché? perché qualche giorno arrivo con un telefono aperto e ti faccio vedere cos'è un telefono cos'è il telefono aperto? cosa vuol dire aperto? sappiamo cosa vogliamo dire dai tra poco ricevi le telefonate in diretta dei telespettatori per caso vuoi già anticiparci almeno qualche tema al quale magari tu hai pensato per la puntata? ma guarda dirò io a scuola con i temi non sono mai andato molto 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 bene lo dico la verità e tanto meno con i problemi quindi abbiamo il problema che non sappiamo che temi usiamo noi solo ora a parte le belinate che di solito io dico e delle quali tu ne sei testimone da una ventina d'anni ecco voglio dire no questa sera lasceremo molto spazio alle telefonate perché siccome come tu ben sai dopo domani a chiave ci sarà o con fegu e tu ben sai anche però sì sei pronto? sì no sono lì vado lì a vedere vado lì a vedere non so qualche cosa ci sarà e quindi le cose belle me le tengo per domenica quindi stasera faremo qualche solita cosine poi daremo molto spazio anche perché c'è chi già si lamenta dopo due puntate già si lamentano che diamo poco spazio alle telefonate allora questa sera ce ne diamo di più questa sera dunque libero sfogo ti possono telefonare allora tutti tra pochissimo a questo punto direi che colgo l'occasione per farti gli auguri di buone feste e io riprendo poi la linea per salutare e salutare i telespettatori se ne è già andato va bene avrà sentito il mio augurio allora rimanete con noi perché adesso arriva il ceto giornale con ce l'ho fatta ma è arrivato in studio ma come hai fatto? ce l'ho fatta ho fatto la corsa ma ce l'ho fatta non poteva non potevano farti gli auguri gli auguri è bellissima bravissima è bellissima sei di parte grazie sono di parte allora dall'altra parte di là perfetto sei bellissima lo stesso ha due profili uguali se vediamo da chi ha 10 minuti mi raccomando ciao finisci pure grazie fai come se fosse a casa tua arrivi da che parte 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 vai di là perfetto allora così ci salutiamo la nuova edizione del TG domani alle 12.45 io vi lascio al metro e vi ricordo anche che come sempre potete rivedere in replica questa edizione del TG alle 20.20 sul canale 117 Tguglio TV trovate le notizie sul sito www.antellatv.net sulla nostra pagina facebook e anche il TG su youtube allora è davvero tutto una buona serata in compagnia dei nostri programmi previsioni per domani sabato 19 dicembre nella prima parte della giornata permangono condizioni di nuvolosità diffusa con deboli precipitazioni sparse nel pomeriggio l'alternazione del flusso dai quadranti meridionali porterà ad una lenta diminuzione della nuvolosità con aumento delle schiarite venti al mattino deboli meridionali nel pomeriggio in calo e tendenza a disporsi in regime di brezza mare poco mosso umidità su valori alti le temperature previste sulla costa tra 13 e 16 gradi nell'entroterra tra 7 e 16 gradi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti